L'arbitro si chiama Schiller, stiamo giocando il terzo minuto del primo tempo, il terzino Wawrowski ha ricevuto questo pallone che crossa, la palla è schiaffata, mentre si pronuncia con Bula l'attacco italiano, colpo di testa di Bellugi, recupera ancora Jarmak, Jarmak e la palla va fuori di un soffro, ottimo l'intervento di Antonioni che ha anticipato Deina, porta la palla nella metà campo avversaria, il lancio per Anastasi, Anastasi in area, tiro, tenta il pallonetto, Anastasi controlla male la palla, Antonioni, Benetti, tiro di Benetti che costringe Tomasiewski, una difficilissima parata in calcio d'angolo proseguire Bula, Gadoja, seguito come un'ombra da gentile, spiove il cross di Gadoja Deina 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 va a terra fallo di mano di Kasperciak, fallo di mano il gioco è fermo, il gioco è fermo Zarmak ha messo al centro un pallone, perde la palla Benetti, la riprende Deina, tiro di Deina, a lato la palla Gadoja ora su Gadoja c'è Pulici, Gadoja riesce a mettere la palla al centro, colpo di testa di Zarmak che allunga di poco la traiettoria Smuda, Anastasi è a terra, Smuda libero da marcature, avanza fino alla nostra rigore poi tira sul fondo impedendo la manovra di centrocampo ai polacchi e partendo con pericolosissimi contropiedi ora però c'è stata un'azione molto bella dei polacchi di Wawrowski Bula fa spiovere la pallinare, rinvio perentorio di Causio riprende però Bula Deina Deina sparata di Zoff sul tiro di Zarmak, scoccato da destra Antonioni attacco di Anastasi che tenta il tiro da molto lontano, Anastasi pallone a lato, comunque controllato Tanto i polacchi hanno battuto il loro calcio d'angolo e c'è una deviazione di Ostapinski Causio a Bettega Stimanowski, Ostapinski Ostapinski e Zarmak ha giocato fino a 10 minuti dalla fine ed ora è entrato Kmieci colpo di destra di Rocca anticipo di Facchetti tiro in scivolata Ostapinski 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 entra in area, tiro, parata di Zoff ancora Zoff prima dell'arrivo C'è stata la palla Matteina la riprende, la riporta in avanti Kmiczek Lato e Marx solo davanti a Zoff aveva dato l'impressione del fuori gioco ed è Wawrowski lanciato sulla sinistra cross di Wawrowski colpo di testa di Zarmak poi di Rocca ancora di Rocca tiro finale di Kmiczek deviato in calcio d'angolo